Ciao, io sono Nina e oggi andiamo a scoprire nuove creazioni in resina che ho realizzato con questo stampo nuovo che ho preso da impronte d'arte, non vi devo l'ora di provare, ma soprattutto che ho realizzato con la resina liquid glass di Reschimica, che ovviamente amo tantissimo perché ormai la implemento in tutti i miei progetti, in tutti i miei lavori, quindi questa colata è stata con questa. Ci sono un po' di cose che appunto non vedo l'ora di scoprire e in realtà qualcosina poi vorrei provare a modificarla, però vediamo, e c'è anche la mia nuova prima gocciolina di Lugia da versione proprio forma goccia che mamma mia ho un'ansia terribile, non vedo l'ora di vederla, anche se lo stampo è trasparente e si intravede benissimo però non vedo l'ora di vederla comunque scoperta. Quindi direi che possiamo iniziare e andiamo a scoprire tutto. La gocciolina però la voglio scoprire per ultimo, quindi la lascio alligirata e andiamo a vedere un pochino di cose. Allora, iniziamo da queste lanterne che sono uno stampo di Gea, che amo, e dentro c'è inglobato dei nuovi stickers adesivi con i fiori che sembrano veri, che trovate da impronte d'arte. Wow, guarda che meraviglia! È super super bella, mi piace tantissimo, e questi stickers stanno poi tanto 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 bene, è super bella, queste poi adoro utilizzarli come omaggini magari applicati sui pacchi. Vediamo anche questa, wow, bella questa, qua poi andrò a rifilare, però questa è bellissima, ha sopra disegnata la luna, però ci sta troppo bene il fiore dentro, è troppo carina, mi piace tantissimo. Gli stampi di Gea sono sempre veramente meravigliosi, li adoro, troppo 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 bella. Meravigliosa, prima o poi devo provare ad inglobare le fatine nelle lanterne anche queste qui di Gea, perché sono stupendi, e vi ricordo che da Gea sempre attivo il codice sconto NINETTI15, però vi lascio tutto sotto l'unifabox, quindi non vi preoccupate, se dimenticate qualcosa lo trovate tutto scritto giù. E sempre con gli stampi di Gea mi sono divertita a fare le farfalle che adoro tanto, utilizzando vari pigmentini che non usavo da un po' di tempo, li ho fatti tutti con la resina nera, che secondo me dà soddisfazioni, quindi... Wow, wow, no vabbè, no vabbè, questo è meraviglioso, e mi piace un sacco il fatto che sia di sfondo nero, perché secondo me nero fa sempre venire fuori tutta la meravigliosità dei pigmenti, questo in particolare ce l'ho da un sacco di tempo, non mi ricordo neanche come si chiama, però è troppo bello. Poi qua ce n'è uno in scaglie, è bello, infatti si vedono tutte le scagliette, però è bellissimo perché va anche sull'arancione, un po' sul verde. Wow, cioè, meraviglioso, no vabbè, guardate che bella, che sembra arancione, che sembra arancione con le parti già nere, no, amo, 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 questo secondo me è il migliore modo di utilizzare questi stampi con le farfalle, questa l'ho fatta tutta di questo blu, lei che ho fatto tutta sulla verde, no vabbè, vedete che amo, amo spennellare i pigmenti e poi fare il nero, perché così tutte le parti che sono nere della farfalla vengono come se fossero già fatte, e il pigmento colora le ali, no vabbè, no vabbè, mi piacciono da morire, sono troppo belle! E poi qua c'è l'ultima, che, wow, wow, questo, mamma mia, questo pigmento qua, vabbè, poi vado a rifilare lo scartino, però, ma questo pigmento, oddio! No, vabbè, molto molto soddisfatta delle farfalline, mi danno sempre enormi soddisfazioni, e poi amo tantissimo sempre utilizzarle, quindi molto soddisfatta, questo stampo è la vita, cioè, lo amo tantissimo, ci fa pochissima resina e dà sempre enormi soddisfazioni, poi veniamo agli altri stampi, questo l'ho presi da impronte d'arte, e dal mughetto, e siccome questo mughetto spesso capita che lo uso per i quadrettini, ho deciso di colarmene uno, meraviglioso, no vabbè, è sempre troppo, troppo, troppo bello, l'ho fatto con questo colore molto chiaro, perché poi, per lo più lo ridipingo, però mi piaceva l'idea di lasciare di questo colore i fiori del mughetto, è sempre un amore, e in questo stesso stampo c'è questo fiore che è bellissimo, quindi lo volevo colare, molto molto carino, mi ricorda una caramella, però molto molto carino, questo è lo stampo ed è tanto tanto bello, poi ho fatto una delle cornici che sto usando tantissimo, questa, l'ho fatta con lo stesso colore, vediamo com'è, perché secondo me è molto carino, wow, molto molto bello, mi piace il fatto che sia rimasta trasparentina la parte retro, e colorato scuro il davanti, non so perché questa cosa mi piace un sacco, però è troppo bella questa cornice, mi fa sempre tanto impazzire, e direi che possiamo andare a scoprire queste, questo stampo sempre lo trovate da impronte d'arte, è meraviglioso, cioè io lo amo veramente tantissimo, tantissimo, e ci ho spennellato una vagonata di pigmenti, quindi speriamo bene, voglio andare a scoprire prima le ali, queste sono molto belle, infatti diciamo che tutto lo stampo l'ho preso per le ali, però anche questi li adoro, perché se sono venute bene vorrei usarle per qualche fata, e queste anche le ho fatte con i flakes, quindi vediamo, perché queste sono opache, volendo si possono andare anche a lucidare, però mamma mia, cioè, ma quanto sono belle, ma quanto sono belle, allora, volendo si possono andare a lucidare, sicuramente verrebbe fuori ancora di più l'effetto cangiante dei pigmenti, però vi devo dire, vi devo dire, che così opache non mi dispiacciono, non vedo l'ora di usarle, ma sono pazzesche, voglio farci assolutamente qualcosa, magari una falena notturna, ma voglio troppo farci qualcosa, magari l'unica cosa la prossima volta, le colo un po' più sottili, e poi qua c'è un altro paio più piccolo, che invece ho lasciato in trasparente, ce l'ho spennellato dentro un pigmentino, però si vede proprio poco, cioè, allora, un po' si vede, un po' lo si intravede, però troppo poco, oddio però anche in trasparente sono meravigliose, si vede pochissimo, però secondo me queste poi decorate un pochino, antichizzate un pochino, possono dare enormi soddisfazioni anche, perché sono molto molto belle anche loro, mi dispiace che sia un po' tipo macchiata con il pigmento, però vabbè, e penso di provare ad antichizzarle queste, poi qua dentro ci sono ancora tantissime falene, vediamo, allora questa l'ho fatta tutta sul blu, wow, mamma mia quanto è bello, cioè quanto sono belle, questo stampo è troppo bello, poi beh, nulla vieta, nulla ci vieta di staccare eventualmente le ali di queste più piccole, ed usare anche solo le ali, però sono troppo belle, con queste mi piacerebbe provare a modificarle, cioè, provare a completarle, e farci delle spille, secondo me possono essere molto 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 carine, però c'è guardate, adoro, poi vediamo, non mi ricordo come le ho fatte tutte, questa, credo di averla fatta sempre con quello stesso blu, ma lasciando un po' di nero, bellissima, queste le voglio dipingere, perché hanno tutti quei, non so come spiegarvi, si vedono, però si vedono benissimo, queste nere sono un po' difficili da farvi vedere, perché perde un po' di dettagli, vabbè, meravigliosa, queste le voglio tutte, tutte modificare, poi c'è lei, questa anche l'ho lasciata nera, no vabbè, questa è pazzesca, questa è pazzesca, mi fa morire questa, la voglio dipingere tutta, proprio come quella vera, e è bellissima, questa è pazzesca, troppo, troppo, troppo bella, questo stampo ve lo straconsiglio, perché è veramente bello, poi c'è questo, che ho fatto con lo stesso pigmento, degli ali grandi, qua forse ce n'è andato un po' di più, perché si vede un po' meglio l'effetto, wow, no vabbè, no vabbè, troppo bello, poi c'è questa piccola, 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 wow, bellissima anche lei, così, in qualche quadrettino, secondo me stanno bene, anche questa l'ho fatta solo in nero, e poi c'è questa grande, che ho fatto con un po' di pigmenti, wow, wow, no vabbè, no vabbè, questa è meravigliosa, qua ci ho fatto due pigmenti diversi, questo viola è lo stesso di questa farfalla, e poi il blu al centro, no vabbè, no vabbè, bene, siamo arrivati all'ultimo, siamo arrivati all'ultimo, quindi andiamo a scoprire, le nuove, anzi, la prima nuova gocciolina di rugiada, nella forma proprio a goccia, questa calcolate che la si vedrà per così, questa parte qui entra rifilata, finché diventi tonda, perfetta, ma, andiamo a vedere, com'è venuta, oh, wow, no vabbè, ma è perfetta, ok, la liquid glass, ci ha dato enormi soddisfazioni, perché non c'è mezza bolla, i fiori si vedono da dio, da dio, da dio, c'è un'ortensia, e questi fiorellini, poi gialli, non vedo l'ora di rifinirla, poi da qui partirà il gancino per collana, perché appunto è una goccia, però è meravigliosa, vabbè, il fatto che non ci sia mezza bolla, fastidiosa, è bellissimo, finalmente avremo delle goccioline di rugiada, che sono davvero delle gocce pendenti, che cadono, devo dire che sono molto, molto soddisfatta di questo scopriamo, veramente tanto, tanto, tanto soddisfatta, e vorrei provare a poggiare dietro il foil, uno dei foil in più wc, sempre di brutte d'arte, prima di salutarci, quindi ora lo vado a prendere, e lo proviamo, allora, ho preso questo qui, che è uno dei miei preferiti, e col fatto che questi stampi sono opachi, dovrebbe venire fuori, perfetto, però non so se riusciamo, di vedere, poi all'interno si vede un po' l'effetto, vedete l'effetto, wow, che è un giante, stupendo, però forse, forse il fatto che comunque ci ho spennellato il pigmento, non ce le fa vedere, cioè vabbè, bugia, comunque si vede abbastanza dentro, mi sa che alla fine queste le farò così, modificate col pvc, bene, spero tantissimo che questo video, scopriamo le creazioni di resina, vi sia piaciuto, fatemi sapere qual è la vostra creazione preferita, io vi mando una bocciana gigantesca, e noi ci vediamo nei prossimi video, ciao!